Ma come diavolo hanno fatto gli inglesi? Non stavano messi peggio di noi? Fa effetto guardare questa tabella con le curve di contagio nei principali paesi europei. Il Regno Unito lo è, malgrado la Brexit. A gennaio era una spanna sopra Germania, Italia, Francia e Spagna. Oggi è in fondo la classifica e la discesa è netta, senza rimbalzi come la nostra. Anche i morti, tanti in assoluto, più di 126.000, quarti al mondo, noi quinti con 108.000. Negli 19.000. Nessuno a Londra. La svolta è dovuta alla vaccinazione a tappeto. Già somministrate 34 milioni di dosi. Tantissime, se si pensa che nell'Unione Europea, 27 paesi, ne sono state somministrate circa 60 milioni. Quando era scoppiata la pandemia un anno fa, il Premier Johnson l'aveva presa sotto gamba. I consiglieri gli suggerivano di lasciar circolare liberamente il virus per ottenere l'immunità di gregge. Poi lui si è preso il Covid. Qualche consigliere è uscito di scena e soprattutto sono arrivati i vaccini. Il governo britannico ha puntato tutto su AstraZeneca, che si è dimostrato efficace e gli è andata bene. Ha accorciato i tempi di approvazione, si è assicurato un congruo numero di dosi, grazie a un contratto più vantaggioso rispetto a quello stipulato dall'Unione Europea, e dice di non avere eccedenze da esportare. AstraZeneca è anglo-svedese, ma ha sede ed è quotata a Londra. Un successo dovuto all'avidità e al capitalismo, ha confidato Johnson ai suoi. Qualcuno gli ha fatto notare che per lo sviluppo del vaccino il governo ha dato miliardi di soldi pubblici all'Università di Oxford, ma intanto il Premier conservatore incassa il gradimento del pubblico. Oggi altri passi verso la normalità, con l'allargamento dei contatti sociali e la possibilità di fare sport da soli all'aperto.